Buonasera a tutti, allora. Innanzitutto ringraziamo la Facoltà Teologica dell'Emilia Romagna per averci permesso di incontrarci come amici di Maglène del Brel. Ci metteremo in ascolto della profondità della profezia di questa donna che, insieme al Cardinal Martini, non veriamo tra le più grandi mistiche del secolo scorso e la cui sapienza ci sembra così attuale e conveniente per corrispondere alla chiamata la santità in questo cambiamento d'epoca che stiamo vivendo. Sono con noi alcuni amici che nel loro cammino di vita, di conversione, di apostolato, hanno incontrato Maglène e hanno tratto nutrimento e orientamento per la loro fede, la loro speranza e carità. Salutiamo anzitutto il suo eminente Cardinal Zuppi, Don Matteo per tanti di noi, che tra le altre cose ci ha onorato anche della sua prefazione all'ultimo volume in italiano dell'Opera Omnia di Maglène, La santità della gente comune, edita da Gribaudi. Insieme a lui c'è anche il per Gilles François, prete della diocesi di Trettei in Francia, storico, postulatore della causa di Maglène e curatore dell'Opera Omnia, autore anche di questa ricchissima biografia, accuratissima, pubblicata in italiano dall'EDB, con il titolo Madeleine Delbrel, Biografia di una mistica tra poesia e impegno sociale. Poi abbiamo Don Luciano Luppi, parico dell'Arcidiocesi di Bologna, docente all'After, la cui passione e conoscenza della figura di Madeleine è nota all'universo mondo, quindi non ha bisogno di presentazione. Ma soprattutto perché pensasse ad una eccessiva enfasi clericale in cui abbiamo introdotto i nostri ospiti, abbiamo la nostra carissima Edy Natali, che ha recentemente pubblicato la sua tesi dottorale e questa sera ci dà motivo di incontrarci dal titolo Madeleine Delbrel, fra lezza e trascendenza, edito da San Paolo, e a lei va la gratitudine di tutti gli amici di Madeleine per averci regalato, dopo il testo Madeleine Delbrel, una chiesa di frontiera, pubblicato nel 2010, un altro tassello fondamentale di quel ricco mosaico che è la vita e la miniera dei testi della Delbrel. Avvertiamo la necessità oggi più che mai di testimoni e maestri che ci insegnino a decifrare le coordinate di questo tempo che stiamo vivendo, a riconoscere nelle strade di città i sentieri di Dio, come titola la prima biografia di Madeleine Delbrel. Lo facciamo alla vigilia di un importante avvenimento di cui celebriamo l'anniversario tra pochi giorni, proprio 70 anni fa, il 6 maggio del 1952, Madeleine viveva una giornata intera a cuore perduto e a perdita di cuore, a Roma, sulla tomba dell'Apostolo Pietro, per corrispondere ad una urgenza di allo spirito che la chiamava ad implorare la grazia di custodire nell'unità l'Apostolato, nel mistero di comunione e di amore che è il Cristo Chiesa. Questo pellegrinaggio lampo diventa anche, dobbiamo dire purtroppo, un riferimento al modo in cui questa sera condurremo questo incontro. Ci sarà un primo giro di interventi a cui farà seguito un tempo di dibattito attraverso le domande che ciascuno di voi potrà scrivere in chat. Ripeteremo poi la stessa modalità per un secondo giro di contributi, cercando di rispettare la durata che ci siamo prefissati per questa nostra serata. Chiedo perdono finora perché saremo costretti a chiedere ai nostri relatori soltanto cinque minuti a testa per condividere i loro contributi che meriterebbero i più ampi. Però, per usare una terminologia cara a Madeleine, parteciperemo ad una sorta di rivelazione in profondità, la cui intensità ci passa alla durata. rivelazione che però ci permetteranno di raggiungere il giacimento di petrolio. Faranno come gocce di aceto balsamico dopo che grazie ai loro saperi esalteranno i sapori delle strade della vita che siamo chiamati a percorrere. Ambula per homine et per vegnes a Deum una citazione di Agostino che è posta come sottotitolo al prezioso volume di Ed e traccia in un qualche modo la cifra sintetica del suo prezioso contributo che vuole mettere in luce l'antropologia e la spiritualità di Madeleine. Allora chiediamo subito ad Ed di aiutarci ad entrare in quel profilo di uomo che emerge la spiritualità del brilliano. Chi è? Quanto vale? Qual è la misura che ci viene incontro quando si ambula verso l'uomo? E che cosa significa antropologia della qual è? Per te Edi. Grazie. Allora innanzitutto grazie a tutti e grazie alla facoltà anche. Sì, allora questo testo che io ho scritto è proprio suddiviso in due parti. C'è un itinerarium ad hominem e un itinerarium adedeum e potrei dire proprio anche in Dio in qualche modo. La prima parte, questo itinerario verso l'uomo ha una marcatura antropologica cioè lei, Madeleine del Brel, come si muove verso l'uomo? Ora noi sappiamo che lei non ha scritto testi sistematici quindi io sono andata un po' alla ricerca nei frammenti di quella che poteva essere la sua visione dell'uomo. Che cosa dice anche oggi la sua visione dell'uomo? Ecco, io ho scoperto questa che ho chiamato così antropologia della fralezza. Che cos'è ecco questa fralezza, questa fragilità? È qualcosa da vincere, da superare? No, non è qualcosa da vincere o superare. La fragilità è qualcosa di costitutivo dell'uomo. È proprio perché l'uomo è creatura che l'uomo è fralezza. Questo ce lo insegna allo stesso Gesù Cristo nell'inno ai filippesi quando lui dice che appunto non ritenne tesoro geloso è la sua uguaglianza con Dio ma si spogliò di se stesso, si svuotò. Quello che noi chiamiamo il processo della kenosis. Questo annientamento, questo svuotamento che poi in fondo è la debolezza, è la fralezza. E che cosa ci manda a dire allora Madeleine del Brelle con questo tipo d'uomo debole che non fa della forza, del cipiglio, della potenza, del potere, della libido dominandi il suo cavallo di battaglia, ma piuttosto appunto di questa debolezza, di questo limite, di questa mancanza, di questa fragilità fa la sua forza. perché secondo me questa fragilità che è per noi costitutiva nel nostro essere creaturale non è un quid negativo ma è qualcosa di positivo. Noi oggi molto spesso siamo paragonati o si parla delle macchine, l'uomo meccanizzato, no? Noi perderemo sempre con le macchine, non abbiamo scampo. Cioè la macchina è molto più veloce di noi, ha molti meno problemi, la macchina ha meno difetti. Ma questo, quindi avere maggiori difetti, avere mancanze, avere imperfezioni, no? Non essere perfetti, cioè non essere compiuti, come ci dice il verbo latino, perficio, è il verbo della perfezione, no? Del portare a compimento, del portare a termine. Questo nostro essere mancanti, questo essere fralezza appunto, crea dentro l'uomo uno spazio per la libertà. E in questa libertà, che cosa succede? Si chiede all'essere umano di uscire fuori e oltre se stessi. Uscire fuori è quello che è il distacco dei mistici fondamentalmente da se stessi, ma andare anche oltre se stessi e quindi l'apertura alla trascendenza. Dunque, e mi porto a concludere, in questa fralezza, in questo riconoscere la creaturalità come costitutiva, si dà un varco, una feritoia per accedere agli altri. E qui, secondo me, gioca un ruolo molto importante anche il corpo, che da Madeleine Delbrel non è assolutamente osteggiato o rifiutato, ma è rivalutato, perché è luogo di incontro tra noi e l'altro. E il limite che il corpo ha non è qualcosa di negativo, ma ci evita quei facili ottimismi o trionfalismi. E quindi cala sull'antropologia un velo di, diciamo così, di mistero, anche di impossibilità di essere decodificata, oggettivata. Quindi che cosa ne deriva? Che io non sono una cosa fra le cose, come donna o come uomo. E quindi ne deriva anche che non posso trattare l'altro come cosa fra le cose. Dunque, in questa antropologia della fralezza si dà anche come antropologia esodale, cioè un'antropologia diremmo con Papa Francesco in uscita. Un'antropologia di una persona che esce dalla chiusura di se stessa per incontrare l'altro, per ascoltarlo, per entrare in dialogo con lui. Perché senza ascolto è impossibile conoscere e senza conoscere non è possibile accogliere. Lo dico tanto più oggi in tempi di guerra. Quindi questo è fondamentale. Quindi questo movimento esodale che caratterizza l'uomo, questa antropologia di cui ho parlato anche, vuol dire che l'uomo non deve rimanere chiuso nelle sue sicurezze. Bensì si deve lasciare provocare, Madeleine del Brel sempre si è lasciata a provocare e interpellare dal mondo. Non dobbiamo avere paura di questo e di conseguenza lasciarsi trasportare ovunque vi sia una carne ferita o un fratello o una sorella. Quindi quella che emerge è un'antropologia che non teme di andare verso gli ultimi e non teme però neanche di toccare l'inferno della storia. Perché Madeleine del Brel ha tenuto insieme sia l'andare verso gli ultimi sia il portare la redenzione al peccasore. Grazie. Grazie Edi. La prossima settimana verrà canonizzato a Roma Charles de Foucault che Papa Francesco ha proposto nell'ultima enciclica come testimone di una fraternità universale che si raggiunge solo identificandosi con gli utili. Era questo l'itinerario per orientare il suo ideale di una completa e totale edizione e donazione a Dio. Come ci ha appena detto Edi un'itinerario ad et in Deum. Allora vogliamo chiedere a Pergine qual era per Madeleine l'ideale di questa consegna? Pergine a te Pergine Pergine a te a te Hola Bonjour Buongiorno Madeleine Delbrel Quel message pour l'Église aujourd'hui? Lorsque nous prenons conscience que Dieu est Père et que nous sommes ses fils la joie nous envahit mais nous ne mesurons pas tout de suite combien cela bouleverse notre rapport au monde. Dire en vérité notre Père nous plonge davantage dans la communauté de destin de tous les hommes où se cherche et se construit une vie plus fraternelle. Ce savoir fils fille de Dieu se la transforme profondément c'est une libération pour vivre plus authentiquement en frères et sœurs les fils sont libres et fragiles aussi Cette double dimension filiale et fraternelle est très présente chez Madeleine. Ainsi lorsque en 1956 son petit groupe La Charité était en crise interne elle partit voir à Rome Mgr Veuillot elle le connaissait depuis trois ans il était membre de la secrétarie d'état auprès du cardinal Montigny Madeleine était-elle alors dans une impasse engagée dans un chemin trop original pour être suivie non mais elle était à la peine Lorsque au cours de l'entrevue Mgr Veuillot la pousse dans ses retranchements elle est si émue qu'elle est incapable de répondre autrement que par des larmes Après ce moment de grande détresse elle rédige son fameux « J'aurais voulu » où elle réexprime la vocation de la charité son désir personnel d'appartenir entièrement et seulement à Jésus-Christ au plus intime de l'Église et pour le salut du monde est intact Les années d'expérience sont là à Ivry tout comme dans la région de Longoui en Lorraine Elle et ses équipières sont très engagées dans le monde mais elles ne sont pas laïques mariées à la cité elles sont plutôt des amantes du Seigneur immergées au cœur de la population Une force fragile et persévérante émane de ce « J'aurais voulu » Elle se dessine lorsque Madeleine redit combien les membres de la charité sont à la fois filles de Dieu et filles de la cité Leur appartenance exclusive à Dieu les laisse libres pour vivre en lui un amour filial de la cité Dieu qu'elles aiment les pousse hors de ces murs que les hommes ont toujours tendance à redresser Ils se franchissent parce que l'amour de Dieu est un amour de pauvres parmi les pauvres des pauvres sans bagage qui se déplacent facilement Ce jour d'octobre 1956 où elle écrivait « J'aurais voulu » elle éprouvait au plus profond d'elle-même sa fragilité et celle de son petit groupe La Charité A titre personnel elle avait successivement vu mourir au cours de l'année 1955 Jean Médieu cet homme qui avait si profondément marqué sa jeunesse et préparé sa conversion puis sa mère Lucille et puis son frère Jules et au même moment le petit groupe était entré en crise La situation pionnière de ces 15 femmes n'était pas facile à vivre très insécurisante et pleine d'inconnus Insécurité certes mais en même temps profond de sécurité il est significatif qu'à propos de Charles de Foucault qui sera canonisé dans quelques jours elle écrive le converti est un homme qui découvre la merveilleuse chance que Dieu soit la foi merveilleuse chance devient très sûre et riche de promesses Madeleine le reconnaissait dans Charles de Foucault frère visible de tous ces bouleversés de la grâce que nous rencontrons actuellement oui si les crises actuelles sont profondes l'inquiét désire d'aller comme le Christ bouleversé vers les plus perdus des hommes mais dans une profonde sécurité il poussait Charles de Foucault ainsi que Madeleine d'Elbrel et beaucoup d'autres maintenant vers des frontières où l'évangile doit passer grazie mille grazie Pergil una certa insicurezza un inquietudine il sentirsi perduti Papa Francesco nella storica priera del 27 marzo del 2020 in Piazza San Pietro ha parlato del disorientamento che stiamo vivendo in questo cambiamento d'epoca ci diceva così ci siamo ritrovati impauriti e smarriti come i discepoli del Vangelo siamo stati presi alla sprovvista da una tempesta inaspettata e furiosa ci siamo resi conto di trovarci sulla stessa barca tutti fragili e disorientati ma nello stesso tempo importanti e necessari tutti chiamati a remare insieme tutti bisognosi di confortarci a vicenda e allora vogliamo chiedere a Don Luciano quali chiavi di discernimento e di azione ci offre Madeleine per abitare e attraversare questo spaisamento si potrebbero dire molte cose innanzitutto Madeleine si pone con tutta la sua sensibilità idonoma sensibilità al femminile sappiamo come per Madeleine il compito della donna nella Chiesa è davvero fondamentale cito un testo del 54 molto bello lei scriveva la Chiesa impegnata in un autentico rinnovamento missionario come noi oggi cerchiamo di vivere deve sapere quali nuove terre il suo sale deve andare a salare conoscere questa nuova terra è una delle preoccupazioni cristiane attuali ma non inganniamo ci scrive Madeleine gli uomini da soli anche impegnati nel più denso spessore del mondo anche intimamente identificati con i loro fratelli il più spesso non saranno capaci di fornire altro sulla vita che delle informazioni che assomigliano molto a degli schemi o a dei disegni in scala noi donne immersi in una poluzione di mondo se desideriamo che sia ben conosciuta per essere evangelizzata senza teorie senza tattica sapremo attirare verso di essa gli occhi della Chiesa e vivificare in natura in grazia i schemi che gli uomini avranno fornito e senza i quali noi stesse non forniremmo che degli abbozzi indecifrati e aggiungeva la nevicella della Chiesa non ha finito il suo viaggio agli uomini il ponte lo scafo gli alberi ma per le vele non c'è modo di fare a meno di noi senza contare che essi hanno sempre voglia di motori e che il vento dello Spirito Santo non ha mai saputo servirsi con Madeleine come donna si mette dentro a una Chiesa che è impegnata in un autentico rinnovamento missionario potremmo dire che per usare una parola cara a Papa Francesco Madeleine può essere ai nostri occhi davvero una delle sante della porta accanto di cui lui pare una donna che ha scelto di spendere la vita nei soborghi poveri operai atei della periferia parigina di Enrico e qualcuno ha fatto notare un artico della civiltà cattolica qualche mese fa che se Madeleine vivesse oggi potremmo dire che ciascuna esortazione apostolica e l'encichica del Papa si sarebbe tagliata a meraviglia al suo carisma e alla sua aspirazione è vero indubbiamente troviamo una sorprendente consonanza tra i due domanda ma da dove viene questa consonanza quella distanza di 200 le motivazioni potrebbero essere molteplici ne provo a elencare alcune ritengo che Papa Francesco e Madre del Brela abbiano in comune innanzitutto la vicinanza agli insegnamenti spirituali di San Francesco d'Assisi e Sant'Ignazio di Loyola abbiano in comune una lettura del Vangelo non a strato spiritualistica ma preoccupate di aderire profondamente alla concretezza del Vangelo come alla concretezza della vita hanno in comune la volontà di lasciarsi interpellare dal dolore dei poveri dice che il dolore dei poveri è la forza universale maggiormente compromessa col mistero scegliendo di condividerne da fratelli la marginalità e la piccolezza la viva coscienza del Vangelo come di una notizia sorprendente decisiva di cui il cristiano non può non sentirsi in debito verso tutti e poi hanno in comune la certezza che non c'è nessun rinnovamento della Chiesa che non passi attraverso una riscoperta della dimensione missionaria della vita di ogni cristiano e di ogni comune ecco si tratta di vivere dunque questo cambiamento d'epoca che può produrre come abbiamo ascoltato prima quando Alessandro circondava il testo di Papa Francesco il 27 marzo del 2020 come un fatto che produce smarimento spaesamento ma Maddalena scriveva che uno spaesamento psicologico e le scoperte che le accompagnano sono indispensabili per liberarci lei dice dalle bucce di cipolla cioè dalle cose che ci impediscono di accedere al cuore della realtà ed è lo spaesamento una condizione indispensabile per divenire una reazione viva di Vangelo senza uno spaesamento radicale dice Maddalena è ben difficile diventare un Vangelo di vento un Vangelo interrato per l'oggi ecco Maddalena è convinta che se Gesù è dappertutto che attende e in noi è lui che cammina ogni momento va vissuto nella luce dell'incontro iniziale con lui quello della conversione quello della fede è sempre incompiuto sempre pronto a lasciarsi arricchire e modificare da un incontro perché tutti gli esseri che incontriamo hanno qualcosa da donarci e ciascuno di loro ha qualcosa da ricevere da noi allora anche gli spaesamenti più radicali non fanno paura perché il cristiano secondo Maddalena ha il suo baricentro in un'intimità itinerante con Gesù che è la via grazie don Luciano ecco don Matteo chiediamo a lei allora quale messaggio d'attualità ha contiene questa via questa strada di Maddalena per la chiesa oggi per la chiesa di oggi ecco provo a rispondere perché in realtà a parte 5 minuti ma voi siete stati meno di 5 minuti o siete stati 5 minuti 5 minuti no? perché a me sembrava siete stati meno o no? 4 e 50 ammessa che bravi io non ho parto da adesso dunque perché tante cose perché davvero Maddalena ci indica molte cose nella chiesa di oggi ti dico soltanto alcune partendo da lei quelle che io penso che io ho sentito la prima è andare oltre le misure una chiesa piena di misure attenta alle misure che c'ha paura di quella di quei folli eh che vanno oltre le misure che cercano il gioco di scacchi dove tutto è calcolato eh un teorema rompicapo e invece si ritrovano a fare una festa eh e proprio perché vanno oltre le misure eh chiamati ad andare ad una misericordia rivoluzionaria e non ad un'organizzazione di servizi viene dopo eh molte volte la mia impressione è che la chiesa oggi ama molto i programmi e tanti fastidi per in fondo una dimensione eh missionaria che è spirituale soprattutto che capisci eh non in una logica dei programmi altrimenti ti sembra di essere mandato allo sbaraglio ti sembra di che una richiesta eccessiva no? eh ti chiede per cui cerchiamo di capire bene tutto quello che dobbiamo fare no? eh e quindi tante volte tante resistenze eh tante incomprensioni eh in fondo eh voler ridurre conoscere la missione prima di uscire no? ecco mi sembra che Maddalene Debrelle ci aiuta tantissimo ad andare oltre ad andare eh per le strade e lì a trovare la risposta è la vita semplicemente la vita che scorre nella quale andiamo se le nostre ancore sono levate e da te siamo chiamati ad andare leggeri senza possessi come una fede nuda ed essenziale la vita è fatta per esplodere per farsi dono quando la si conserva per sé la si soffoca ho l'impressione che qualche volta come dire l'idea di eh certe eh 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 l'idea di ridurre tutto a un programma eh è un modo poi appunto per eh per vivere meno questa dimensione della vita per questa dimensione di camminare insieme la seconda l'urgenza della chiesa l'urgenza della chiesa eh la una sofferenza atroce con la quale ci eh dobbiamo misurare e questa sofferenza è degli altri non nostra leggo perché è lei ehm per il fatto di essere nella chiesa siamo gente pressata in lei pressata come lei come lei a causa del mondo noi siamo in uno stato di urgenza tutto ciò che facesse di noi dei pensatori degli amanti dell'introspezione dei problematizzatori cronici ci distoglierebbe da questa urgenza ed è ciò che temo per noi al contrario camminando si può pensare raccogliersi e riflettere e poi c'è anche una bottarella contro gli psicologismi e siccome a mio parere eh la vera eh la vera introspezione è esattamente fare questo e qualche volta diciamo così amiamo ehm piuttosto appunto ehm ehm essere dei problematizzatori cronici e vivere meno l'urgenza ma l'urgenza non è che la diciamo noi l'urgenza c'è caspia se non c'è la vediamo drammatica tragica le pandemie oggi ce lo ricordano in in maniera in maniera impressionante e poi l'ultima cosa è la gioia eh contagiosi di gioia eh sì eh credo che in lei c'è questa dimensione molto che poi diventava mi sembra anche un po' l'umorismo un po' l'ironia che ci fa un gran bene che che è proprio uno spillo che sgonfia eh tante appunto tante ehm tante compie tanti compiacimenti soggettivi invece la gioia eh la gioia di quel fuoco acceso eh correre il mondo in noi ehm per le vie della città fiancheggiamo le onde della folla contagiosi di beatitudine e contagiosi di gioia ecco a me è tra le tante cose che quella mistica di un realismo molto più eh capace di di entrare nella storia eh di tanti problematizzatori eh cronici credo che è oggi proprio quello di cui la Chiesa ha tanto bisogno eh molta gioia e meno giudizio ottimo grazie allora ci regaliamo adesso un tempo di di dibattito di confronto e se volete potete scrivere le vostre domande e le vostre riflessioni anche in chat lo facciamo con una certa leggerezza però cercando di cogliere quei temi urgenti ed emergenti che ci suggeriva anche Don Matteo in questo momento evitando di essere dei problematizzatori cronici anche nelle domande però portando ecco quella l'attenzione su quelle su quel magis di di saggezza evangelica di sapienza che Madeleine ci insegna con la sua vita e con i suoi scritti quindi se volete potete già iniziare a scrivere forse non siamo in un numero esagerato quindi volendo potrebbe esserci anche la possibilità di intervenire direttamente come preferite sfruttiamo questo tempo e soprattutto questi amici che come avete visto hanno saputo già stimolarci in un modo molto ricco simone ad esempio scrive si potrebbe dire che il convertito è colui che crede non solo che Dio esista ma che Dio lo ami e che ciascuno di noi è in vita in virtù di un desiderio che lo precede grazie prima domanda di Simona anche rispetto all'identità di questo uomo un po' come Edy suggeriva una antropologia che si apre alla trascendenza questa fragilità visitata e trasfigurata Edy vuoi rispondere tu a questa domanda ripeto l'interrogativo si potrebbe dire che il convertito è colui che crede che Dio lo ami e che ciascuno di noi invita in virtù di un desiderio che lo precede Ma allora io direi sì che è vero questo che dice Simona cioè che il convertito è colui che crede non solo che Dio esiste ma che lo ami perché secondo me colui che si converte la conversione non è soltanto un'adesione che si basa soltanto intellettuale per cui io credo penso che esista ma è qualcosa di esistenziale secondo me per cui è vero che io ne sento l'amore devo sentire l'amore di Dio nella conversione questo per esempio va dell'Endel Brelz secondo me l'ha fatto proprio capire cioè perché non è soltanto se no si rischia che la conversione diventi un'adesione intellettuale o quasi soltanto intellettuale mentre è un'adesione esistenziale per cui se ne sente anche l'amore e che ciascuno di noi è in virtù di un desiderio sì penso di sì perché se Dio è un vetrino questo questo amore pericoretico fra di loro di danza fra il padre il figlio e lo Spirito Santo credo sia proprio questo che ha fatto scaturire che ci sia un desiderio da parte di Dio da verci perché se no non ci avrebbe creato quindi non so se ho capito bene la domanda ma credo che proprio noi siamo figli di un desiderio di Dio che si è esplicato nella creazione questo desiderio questa sovrabbondanza di amore perché il desiderio anche sovrabbondanza d'amore in qualche modo non so se poi i miei amici se vogliono rispondere se hanno capito qualcosa Simona sembra soddisfatta e ringraziata io ti ringrazio anche per la ricchezza di citazioni di contributi anche del del magistero filosofico e soprattutto del novecento penso alcune citazioni di Marcel che ci hai regalato e che vanno proprio in questa lunghezza d'onda ci parlano dei desideri ma anche di questa di questa erranza di questa itineranza che proprio di fatto è il cammino dell'amore se ci sono altre domande altre questioni approfittiamone in chat tra l'altro in modo molto opportuno è stato indicato l'indirizzo mail del gruppo di amici di Madeleine Delbrel in Italia madeleine delbrel madeleine delbrel punto it chiocciola gmail punto com quindi anche per ulteriori successivi approfondimenti o richieste informazioni potete scrivere a questo indirizzo e noi li risponderemo Alessandro possiamo girare la domanda anche a Padre Gilles e voilà Gilles innanzitutto è vero ma innanzitutto Madeleine è seduta all'esistenza stessa di Gilles tu vivais e io non savais rien tu vivais io e io non ne sapeva niente tu n'étais pas là tu me paressia stupide e bête tu non eris là e tutto mi sembrava stupido e shock quando ho saputo che tu invece esistevi ti ho ringraziato per la vita del mondo intero ti ho ringraziato e avermi fatto vivere quello che ho appena detto è una preghiera che Madeleine ha scritto negli ultimi anni della sua vita e mette dunque primo piano l'esistenza stessa di Gilles c'è un effetto ètono perché il suo gruppo s'appelle la charità e questo ci colpisce perché il suo gruppo porta come nome la carità elle è envahie par l'amor di Gilles che se diffuse si sente in base afferrata completamente dall'amore di Dio che vuole diffondersi è davvero afferrata da questo amore è abitata da questo amore ma elle viene del grande dramma dell'atheismo o Dio n'existe e quindi Dio n'aime non perché non esiste nemmeno amore nemmeno c'è da tendere un amore grazie per Gilles grazie grazie ecco intanto mentre aspettiamo richieste di informazioni domande contributi di vario genere possiamo dare l'avvio a un secondo giro di contributi che renderanno ancora più ricco il tavolo di questa nostra condivisione vogliamo chiedere un approfondimento ad Edi e come già è successo è successo ai tempi del Concilio Vaticano II anche oggi nel contesto ecclesiale contemporaneo che si vede tutti impegnati in cammini sinodali sinodalità sembra la parola d'ordine di ogni azione ecclesiale oggi ecco la chiesa gerarchica potrebbe chiedere a Madeleine una parola di intelligenza spirituale di sapienza evangelica sul tema dell'ateismo della scristianizzazione dell'indifferenza rispetto alla questione Dio così era successo proprio alla vigilia del Vaticano II quando Madeleine era stata interpellata in questo senso allora ti chiediamo Edy quale interpellanza pone questo tema alla comunità evangelizzatrice così la definisce Papa Francesco nell'Evangelii Gaudium ma io credo che oggi il problema dell'ateismo o quello dell'indifferenza sia un grande problema e che siccome Madeleine ha vissuto appunto in un ambiente scristianizzato e ateo e ha fatto osservazioni molto secondo me lungimiranti e importanti credo che sia bene recuperarle sarebbe bene rimeditarle innanzitutto anche lei nota che i cristiani e credo sia vero tutt'oggi non percepiscono più l'urgenza dell'evangelizzazione nel senso del dare testimonianza con la loro vita perché vivono sostanzialmente un cristianesimo di routine cioè come se fosse appunto un'eredità che uno tiene in un cassetto molto molto comoda ecco quindi questo crea problemi poi innanzitutto molti cristiani e tutt'oggi va e vale tutt'oggi l'ateismo per molti cristiani non esiste o meglio non viene preso in maniera seria ma viene considerato in modo superficiale se non addirittura si conosce ben poco dell'ateismo ecco io credo che invece andare verso l'ateo voglia dire non andarci così a cuor leggero non come pensando che per lui Dio è soltanto un qualcuno di dimenticato da richiamare alla memoria perché così non è ecco non è perché lei appunto come diceva prima sia padre Gilles sia non ricordo se l'arcivescovo o Don Luciano lei è stata atea e lei sa bene che il pericolo più grande appunto è questo a creare questa zona d'ombra di nulla dentro se stessa di assenza di Dio però questo cristianesimo e qui ancora critico un po' lei critica ma critico con lei la nostra società il nostro essere cristiani è spesso ripiegato su se stesso e vive il dono della fede come qualcosa di intimo di intimistico si cerca di si frequentano si frequenta la chiesa come se fosse un ambiente protetto sostanzialmente no un club dove si va con requisiti di buona condotto con appunto un certificato che dichiara che siamo buoni cristiani questi ambienti protetti e chiusi in un ambiente protetto e chiuso primo non si rende necessario essere testimoni perché basta parlare e la gente ti ascolta se già in un ambiente che ti accolta secondo non consideri l'altro che non ha Dio allora bisogna ripensare un po' queste cose e ripensarle attraverso la fede cioè che tipo di fede dobbiamo avere noi una fede dice Madeleine che non ha paura di entrare in contatto all'ateismo una fede che non ha paura di quest'urto ma che è molto lontana da una fede di tipo come intesa come buonsenso o come mentalità non è questa dice lei la fede non è neanche aderire a un sistema morale per cui l'altro che non è credente sarebbe semplicemente un immorale non è questo l'altro che non crede non è figlio di Dio che è ben diverso è ben più profondo la dimensione è ontologica direi quindi è bene recuperare questo aspetto forte della fede l'aspetto forte della fede che che regge l'urto anche dell'ambiente asino e Madeleine Delbrello sa proprio per averla appunto provata di sé chiudo citando proprio delle sue parole quando lei dice che ha orrore di un mondo senza Dio senza stabilità nel mistero che crede di essere chiara a se stesso e che va inabissandosi in un divenire senza scusate ho detto ho sbagliato ho detto di Madeleine Delbrello di un contemporaneo di Madeleine Delbrello di Henri di Elisac che dice appunto che ha orrore di un mondo senza Dio senza stabilità nel mistero che crede di essere chiara a se stesso e che va inabissandosi in un divenire senza significato e senza via di uscita quindi Dio ci dice Madeleine Delbrello non è un'idea da difendere non è un qualcosa di scontato ma è questo novum per eccellenza che scardina ogni visione rassicurante e conservatrice ma diventa un pungolo un pungolo appunto per andare avanti si parla di cammino sinodale certo è un pungolo per non stare seduti e questo annuncio del Cristo ci chiama a essere posti provvidenzialmente in un crocicchio di vie e lì dare testimonianza e dare ciò che abbiamo ricevuto e questi verbi trasmettere ciò che si riceve sono verbi tecnici del Vangelo quindi l'importanza di essere presenti presenti proprio la sua spiritualità anche incarnata grazie grazie edi ha ragione il cardinale comunque rimani sempre sotto i cinque minuti per cui dopo ti costringeremo a rispondere ad altre domande una presenza dicevi che Madeleine ha vissuto a Ivry per la maggior parte della sua vita nel tuo testo scrivi la comunità di Roura Spail il viale dove aveva la sua dimora Madeleine con le sue compagnie si presenta come una sorta di sacramento di cui solo Dio conosce l'avvenire non è dato conoscere quali rami dell'albero chiesa saranno destinati a germogliare e quali a seccare a cadere per nutrire le radici dell'albero stesso e allora poniamo una questione a Pergil qual è la realtà di Ivry oggi esistono ancora l'equip della charité e le chiediamo a lui perché è responsabile anche di un percorso di discernimento per la vita consacrata secondo lo spirito di Madeleine Delbrel grazie la charità avait été fondée en 1930 par Madeleine Delbrel et il y eut une équipe à Amiens au nord de Paris jusqu'en 2013 après 83 ans de continuité ce chemin de vie consacré ouvert par elle s'est-il interrompue le 8 février 2018 lors du décès de Susanne Perrin un peu plus tôt le père Bernard Pitot m'avait fait rencontrer le père Jacques Duplessis de la Mission de France qui était demandeur d'un tel chemin en y associant Anne-Marie Viry nous avons bâti ensemble un parcours de discernement de vie consacrée dans l'esprit de Madeleine Delbrel celui-ci débuta en décembre 2017 donc peu de temps avant le décès de Suzanne mais aussi alors que le pape reconnaissait l'héroïcité des vertus de Madeleine le 26 janvier 2018 et qu'un accord était trouvé pour la réouverture au public de la maison du 11 rue Raspail à Ivry nous avions été marqués par la proximité de ces dates était-ce un flambeau qui se transmettait il serait tentant de le dire mais je crois d'abord qu'il s'agit d'un service du discernement des vocations environ 35 personnes ont vécu ou bien sont en train de vivre le parcours parmi elles plusieurs orientations se dessinent et s'affermissent le célèbre missionnaire sans bateau qui qu'écrivit Madeleine en 1943 montre ce qui se passe actuellement dans son troisième chapitre les deux appels Madeleine met à égalité vocationnelle ceux de la maison et ceux des routes aux uns d'être là où le Seigneur les a posés aux autres de suivre le Christ sans amarre qui leur dit viens et suis-moi nous voyons ainsi que la sainteté des gens ordinaires qu'explore Madeleine concerne chacun ceux des maisons comme ceux des routes ont authentiquement à être à leur vocation telles que le Seigneur les appelle un parcours de discernement semblable vient de débuter chez vous en Italie qu'il est beau de voir combien de personnes sont nourries et encouragées par la vie et les écrits de Madeleine cet ensemble-là est porteur dans un monde fait de maisons et de routes le regroupement d'une dizaine de femmes laïques attirées par le Christ sans amarre y prend un relief singulier au cœur de l'Église à cause du signe qu'elle donne modeste et précis quelques mots enfin pour vous apporter deux nouvelles Mgr Dominique Blanchet évêque de Créteil avait demandé peu d'antan après son arrivée en février 2021 une réécriture plus simple et facile à mémoriser de la prière pour la béatification ces choses faites elle sera imprimée dans quelques jours volume 1 1915 1949 de la correspondance de Madeleine Delbrel est lui déjà imprimée il sera diffusé à partir de cette semaine la correspondance annotée a permis de rassembler de nombreux renseignements qui aident à suivre Madeleine dans son quotidien au long des années le volume 2 1950 1956 est prévu pour l'automne il y aura en tout cinq volumes merci mille merci padre Gilles anche pour ces belles notizies pour ces belles novités qui nous attendent all'undici di Roraspail nel sojourno c'è questo grande tavolo su cui Madeleine scriveva tanta parte della corrispondenza delle sue opere dei suoi scritti c'è ancora questa cartina del mondo questa mappa che ci dice come quel luogo particolare fosse pieno di un afflato di un orizzonte universale e allora sul nostro oggi nella nostra contemporaneità incombe la drammatica situazione della guerra in Ucraina ostinatamente Papa Francesco ci invita a non arrenderci alla logica della violenza ma a promuovere ogni laboratorio di dialogo e di riconciliazione in cui cercare insieme la pace e allora vogliamo chiedere a Don Luciano com'è possibile dialogare a cuore aperto con gli altri che cosa farebbe oggi Madeleine in questo contesto? Ecco mi sembra bello rileggere insieme a lei qualche passo di un articolo che lei aveva scritto nel 1959 un articolo che era un invito alla cittadinanza di Vries Wissens dove lei viveva da questa cittadina operaia sud di Parigi periferia sud di Parigi un articolo apparso sul settimanale locale del Partito Comunista in cui Madeleine invitava a partecipare a una riunione sulla pace in Algeria infatti in quegli anni siamo nel 59 era in corso una guerra violenta tra le forze coloniali francesi e i gruppi armati che lottavano per l'indipendenza in quel paese nordafricano che non solo causò tanti morti civili e militari dal 54 al 62 su una popolazione di 10 milioni di persone riguardo ai caduti civili si stima che tra 300 mila e un milione di algerini siano stati uccisi ci siano stati quasi 500 mila vittime tra i soldati algerini e i francesi e gli altri che parteciparono a questa lotta ma non solo la guerra causò tanti morti civili e militari ma la guerra era colpita al cuore l'Europa stessa che riteneva che le guerre fossero ormai un retaggio del passato che non ci riguardassero più nel suo articolo Madrienne espone le ragioni per cui ha preparato l'incontro in programma insieme ad altri e invita a partecipare lei dice ragioni personali ma talmente semplici che sono sicura di condividerle con molti e con grande chiarezza esprime l'esigenza di fare cose di riflettere insieme sull'argomento di aiutarsi ad affrontare il problema della guerra e della pace in Algeria uscendo dalle logiche strumentali e dalle interpretazioni ideologiche e puramente politiche ma soprattutto Madrienne sente che questo incontro è importante per aiutarsi a non cadere nel pericolo più grande l'indifferenza scrive così quando dei fatti anche se avvengono lontano da noi mettono dei paesi a ferro e fuoco creano sventure uccidono persone possiamo avere su questi fatti delle opinioni differenti ma non abbiamo il diritto di non avere un parere la più grande complice di tutte le sventure è l'indifferenza la riunione dei sette e quelle che l'hanno preceduta vogliono lottare contro l'indifferenza e aggiungere io a quell'incontro ci vado per non addormentarmi sulla sventura del vicino per impedire agli altri di dormire come dormirei io ci vado perché vi ritrovo della gente che non la pensa come me non solo sulle misure da prendere in Algeria ma su molti altri va bene è per provare che il mio desiderio di pace non è un idealismo che se voglio la pace dappertutto vi credo in primo luogo nel comune in cui vivo non possiamo lavorare alla pace sull'altra sponda del Mediterraneo e portare avanti la nostra piccola guerra con la gente della nostra strada ci vado aggiunge Madeleine perché non credo ad alcuna politica se questa politica non è radicata nella coscienza delle persone temo tanto le dittature quanto la guerra perché le une non vanno senza l'altra ma so che il cammino più sicuro per condurre un popolo alla dittatura è quello di lasciare che le persone di questo popolo perdano coscienza so anche che ogni dittatura prima o poi crolla se in un popolo resta viva la coscienza di ogni persona queste riunioni vogliono essere un mutuo risveglio delle coscienze è per questo che ci vado Madeleine non si nasconde la complessità della situazione dunque e lei che ha conosciuto la lotta per la liberazione contro i nazisti in Francia pur partecipandovi solo sul versante allora dei servizi sociali sa bene che talvolta le scelte da compie possono essere dolorose ma aggiunge vanno pagate di persone scrive dico solo che non voglio la guerra né per il mio paese né per gli altri so che può succedere che si debba scegliere tra due guerre che si debba scegliere la guerra piuttosto che una sventura che potrebbe essere ancora più grande non so se l'avvenire mi metterà di fronte a una scelta del genere ma so che quel giorno rischierò non solo la vita degli altri ma anche la mia certo per Madeleine la pace deve essere l'orizzonte ultimo ma afferma credere alla pace è credere alla pace per tutti e non alla propria personale tranquillità è credere alla pace facendovi credere la pace non può esistere se non vi si crede dunque per Madeleine occorre credere alla pace la pace richiede cioè una premessa di fiducia che non è utopia non è coltivazione di un irinismo ingenuo e illusorio perché scrive Madeleine è quando si crede che essa esiste che se ne trovano i mezzi per captare le forze della pace bisogna essere sicura che se sono in noi attorno a noi fra di noi dunque la riunione a cui Madeleine invita a partecipare non dovrà essere semplicemente un incontro sulla pace una pura rassegna delle opinioni sulla guerra in corso in cui ciascuno cercherà di ribadire e difendere il proprio punto di vista ma una vera esperienza di pace cioè un laboratorio in cui uomini di buona volontà cercano insieme le forze della pace e si impegnano a volerla dappertutto cominciando a lasciare scuotere la propria coscienza perché in essa possa radicarsi un'autentica volontà di pace e conclude il suo articolo così Madeleine vado a questa riunione come a un laboratorio in cui degli uomini di buona volontà cercano insieme le forze della pace bisogna aiutarsi gli uni gli altri per confondere le forze della pace e le forze della guerra per non lasciarsi trascinare a voler fare la pace facendo la guerra ve lo dico con tutta semplicità ogni volta che voglio lavorare alla pace che sia la grande o la piccola quella di casa mia della mia famiglia dei miei amici mi rendo conto a un certo punto che sto per partire in guerra contro qualcuno tizio o caio l'uno o l'altro il nord o il sud l'est o l'est e come si è facilmente indifferente verso tutto ciò che non ci tocca personalmente mi sorprendo a non dare lo stesso valore alle vite umane a seconda che la guerra ne faccia strage vicino o lontano il fatto conclude Madeleine che il nostro cuore si rinchiude su di sé si ripiega su di sé ritrova come una brutta piega una vecchia abitudine di guerra parlare a cuore aperto con altri e andare contro questa brutta piega questa vecchia abitudine e costruire la pace laddove essa comincia e laddove essa termina nella volontà di ciascuno grazie Don Luciano sappiamo che sei particolarmente legato a questo testo forse sarebbe bello anche che tu ti dicessi il motivo la genesi storica nel senso che quando facevo ricerche sui testi di Madeleine questo testo non era stato scoperto e lo trovai proprio nella settimanale di Ivry fu una scoperta bella da condividere una grande gioia insieme a proprio un testo che conserva una straordinaria attualità e penso che tanti ci chiederanno di poterlo rendere disponibile anche nei modi in cui potremo noi non sappiamo se Don Matteo verrà eletto presidente della CEI sappiamo però con assoluta certezza che diventerà Papa e allora lui dovrà assolutamente ed è un impegno che gli chiediamo di prendere quest'oggi davanti a tutti noi proclamare Madeleine non solo dottore della Chiesa ma anche infermiera della Chiesa e anche farmacista della Chiesa perché Edi Natali usa la categoria del farmaco spesso nel suo testo e anche in altri testi e allora e così anche ascoltando le risonanze che vorrà proporci volevo chiederle secondo lei che cosa ci consiglierebbe di acquistare quali medicinali i farmaci potremmo comprare alla farmacia di Madeleine dunque non rispondo perché non posso dire le parolacce e quindi mi hai proibito rispondere sono registrato appunto per questo dopo mi faccio suggerire qualcuno in francese da Chiesa comunque considera di parolacciato ecco dunque però sui farmacisti già ce l'abbiamo perché certo San Giovanni Leonardo è il padrone dei farmacisti che era un farmacista però sul farmaco sicuramente direi che c'è ragione Edi ne ha parecchi cioè è una farmacia completa quella di Madeleine veramente incredibile cioè è di una così capacità di dare la risposta di di farti sentire anche le domande di ricordarti le domande di farti scoprire le domande dentro di te dunque però quale 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 medicina ma una tra le tante è quella della leggerezza io qualche volta appunto ci appesantiamo ulteriormente perché perché appunto se no non si capisce non è chiaro dobbiamo avere appunto il programma se non c'è una una poi l'attenzione è tutt'altro che una che così che improvvisava era rigorosissima delle scelte conseguenti no ma appunto per via nella via nella vita e la vita nella quale andiamo se le nostre ancore sono levate il perché della leggerezza e perché in fondo lei prende molto sul serio la vita prende molto poco sul serio per certi versi se stessa scherza prende prende un po' in giro appunto i giocatori di scacchi quelli che si credono ehm eh dove quel matrimonio com'era eh il matrimonio invecchiato no eh quelli che eh di Toremi rompicapo eccetera eccetera no ehm la leggerezza eh che è eh correre che è sentire l'urgenza ehm leggo perché è una delle tante cose che mi ero appuntato per da dire ma da te siamo chiamati ad andare leggeri senza possessi con una fede nuda e essenziale questa fede ci rende semplici della tua grande semplicità eh essa si acquista con il sacrificio di tutto quanto non sia il regno dei cieli allora quelli che ci incontreranno sul sul loro cammino tenderanno le mani al tesoro che zampilla da noi un tesoro liberato dai nostri vasi di creta dalle nostre valigie dei nostri bagagli un tesoro semplicemente divino allora saremo agili e diventeremo a nostra volta delle parabole che donano a tutti la perla preziosa ah che aspira ecco eh di fronte a eh qualche volta così la tentazione della complessità un po' forse perché ci prendiamo molto sul serio troppo sul serio eh un po' perché ehm c'era prima tutto tutto la riflessione sul sull'incontro con il mondo diciamo eh scristianizzato no? eh noi parliamo adesso della fine della cristianità e a mio parere qua dentro abbiamo ancora tutta la toponomastica della cristianità cioè dobbiamo aggiornare il il la nostra toponomastica perché ancora proprio siamo abbiamo quella vecchia e appunto lei non è che cioè c'era il confronto con appunto con la periferia con e poi anche sempre con quell'incontro pieno di spirito con come si chiamava il bar io mi dimentico sempre Luciano Chiara di Luna basta quello è il mondo nel che riesce a vedere pieno in maniera amando e in fondo con tutte le tante domande di amore che incontriamo tutt'altra cosa diciamo così che uso nel linguaggio di Papa Francesco Evangelical dei piani di conquista eh di generali sempre sconfitti no? per cui direi in questo senso diciamo così una leggerezza che che ci fa trovare l'essenziale no? che è perdere tutto quanto quello come nel nelle parole che abbiamo ascoltato prima che non sia del regno dei cieli e quindi anche con quell'essenzialità che permette di di saper di essere a proprio agio ovunque ma non ad adattarsi a tutto ma anzi con una fede che comunica luce che comunica appunto quella quel tesoro che zampilla in noi liberato dai nostri vasi di creta sì ecco quindi la leggerezza grazie grazie mille intanto don Marco aveva scritto una domanda che adesso rilanciamo sono parole forti e belle quelle pronunciate da Madeleine ma come concretamente noi possiamo aiutare gli spaesati a sentirsi pure loro amati sedotti da Dio questa è la prima domanda di don Marco mentre Simona rilancia con un'associazione di idee che le è venuta in mente attraverso un libro che è la mistica della carne del filosofo francese scrittore francese Ajard se anche per Madeleine si può dire qualcosa del genere superando il dualismo platonico ecco Edi ne parla spesso del valore del corpo e della carne anche in questa fragilità in questa fralezza che costituisce la base di questa antropologia che si apre alla trascendenza Vedi che recupero i quattro minuti e quindi l'altro minuto ma allora sì chiaramente non c'è una una specie di sotterraneo dualismo che è attraversato il cristianesimo dove si dove c'è questa dicotomia fra anima e corpo che ha attraversato un po' secoli da Platone ma poi Cartesio e andando su attraverso la filosofia ma proprio ha aderito anche un po' il cristianesimo certo ma è quello ufficiale però dobbiamo dire che evangelicamente parlando e Madeleine è molto attenta al Vangelo dobbiamo dire che non esiste questa dicotomia io come diceva Don Alessandro ho sempre anche in questo libro ho parlato di spiritualità incarnata cioè non esiste una spiritualità che non sia incarnata e non esiste io da credente dico un corpo che non sia spirituale anche quindi il corpo è il tempio dello spirito in qualche modo per cui questo secondo me è un farmacon in qualche modo è un rimedio a atteggiamenti eccessivamente spiritualisti che vengono dove si vivono a livello emotivo che si vedono quasi sull'onda dell'emozione e che non è la spiritualità cristiana secondo me o l'altro l'altro verso cioè l'altro canto che è quello di una valorizzazione una ipervalorizzazione del corpo diciamo ma più che valorizzazione ho sbagliato il termine cioè un un tener conto troppo del corpo come se quello fosse il centro quindi si cade in un materialismo cioè perché poi alla fine il corpo diventa una cosa fra le altre prima Don Alessandro diceva che io ho fatto un po' a riscoprire volevo far accennare perché il clima in cui vive lei è un clima anche da un punto di vista filosofico incredibilmente splendido cioè fertile proprio sì per esempio Marcelle fa un'osservazione molto importante quando lui parla del concetto dell'avere che non lo vede solo come possesso perché io posso dire che ho questi occhiali questo vuol dire possedere questo ma il concetto di avere è anche io ho questo naso che è un concetto ben diverso per cui lui dice per esempio in relazione al corpo bisogna rivalutare questo concetto dell'avere perché esso non ci dà una disponibilità io non posso fare il corpo ciò che voglio ecco questo perché ovviamente anche Marcelle è un convertito è un credente ma perché il corpo è anche spirito qualunque insieme ne lo facciamo appunto è un'incarnazione di questo poi vorrei dire solo una parola e poi taccio al sacerdote come si fa credo con quello che che veniva da dire anche prima con la testimonianza noi non abbiamo una fede troppo di routine noi viviamo un cristianesimo troppo di routine troppo seduto noi abbiamo troppo timore ad andare fuori noi non dobbiamo avere questo timore io vivo anche in ambienti non essendo appunto clero come diceva Don Alessandro vivo anche in ambienti diversi da quelli che sono la chiesa e non dobbiamo temere la nostra fede ci deve accompagnare anzi è proprio fatta per stare anche in questi ambienti si durerà fatica ma è fatta per stare in ambienti dove manca la fede e bisogna starci cioè la presenza è qualcosa mi verrebbe da dirti bisogna esserci se non il primo punto il punto di partenza è esserci sulla strada per questo la categoria della strada è fondamentale perché una categoria della strada è un luogo di incontro ma è un luogo di ci si incontra o meno nella parabola del buon samaritano perché si sta facendo lo stesso percorso e per caso per provvidenza ci si incrocia e lì bisogna stare attenti lì si deve guardare e fermarsi cioè diventare responsabili dell'altro e l'altra categoria fondamentale sarebbe la cura e ora sono stata brava don Alessandro bravissima bravissima ho tenuto più di qualche minuto anche perché ci hai ricordato appunto che il samaritano si dice nel Vangelo di Luca che era in viaggio era un uomo viator un po' questo questo essere perlegrini questo essere viaggiatori in questa erranza che tu hai così ben descritta nel tuo libro ecco chiediamo a don Luciano se può tradurre al pergile domande pergile come aiider ci sono dei paesi dei concerti dei orientati oggi a fare l'esperienza dell'amore di Dio a essere seduti par Dio che Madeline dirà a questi proposti con i comunisti del suo partiere, con un atteggiamento di chi si sentiva retta scogliata di se stessa, non preoccupata per se stessa, era libera, très décentrata di questi problemi, même quando aveva molti difficolti, non era presa per se stessa, anche quando aveva momenti difficili con molti problemi, non era ripiegata su se stessa, sui suoi problemi. Si poteva percepire che era tutta rivolta verso Dio. Elle amava Dio, e Dio amava il mondo, e quindi aveva questo amore diffusivo che si comunicava. Ce sono delle cose semplici della vita quotidiana. Ciascuno poteva percepire che era veramente rivolta verso Dio. E qu'elle était vraiment totalement libre pour aimer les gens qui étaient là. E totalmente libera per amare le persone che incontrava. Grazie. 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 Alessandro, se posso aggiungere una cosa? Posso? a proposito di questa sottolineatura anche di Vescoe e Arcivescovo, della leggerezza di Madeleine, che appunto ci metteva in guardia a diventare dei pensatori e degli amanti dell'introspezione, problematizzatori cronici che ci distolgono dalla vita. e questa leggerezza che ci spinge ad andare con questa fiducia nella grazia del Signore, nel suo spirito, incontro alla vita, incontro alle persone. Ecco, mi sembrava proprio utile ricordare una cosa. Ecco, Madeleine sentiva che se c'era mai stata nel passato era finita l'epoca delle ricette, cioè delle risposte prefabbricate, sia quelle, diciamo, che riciclano ciò che si faceva nel passato, sia quelle che di volta in volta assolutizzano le mode del presente. Ecco, veramente aprirsi alla grazia camminando. E mi sembra che appunto, così lei ci insegna uno stile inconfondibile, uno stile paradossale della vita cristiana che è inconfondibile. Trovo a dire qualche tratto, cioè ci insegna a tenere insieme l'assoluto di Dio, ma proprio l'assoluto di Dio e la prossimità più amorevole e fraterna verso chiunque, verso ogni persona. A tenere insieme il senso acuto del Vangelo come qualcosa di letteralmente inaudito, se mai sentito una cosa del genere, e l'ascolto sincero delle provocazioni del proprio tempo e delle persone. A tenere insieme un amore per la Chiesa incondizionato, ma realistico e senza mistificazione, fatto di un'obbedienza che, come scrive lei, accetta il rischio della sottomissione, ma inseparabile da una corresponsabilità intraprendente e coraggiosa. A tenere insieme la cura della competenza professionale. Madeleine ha avuto veramente un'allergia verso il dilettantismo, cioè fare le cose così, alla viva il parroco, potremmo dire noi all'italiano, no? Cioè, dilettantismo, no, no, la competenza professionale, e lei l'aveva vissuta da assistenti sociali in momenti rammantici della guerra, e insieme l'immersione teologale e la certezza che Dio agisce potentemente nella storia, nella forza della preghiera. tenere insieme la ricerca audace di sentire i nuovi per l'evangelizzazione e un tenace radicamento nella concreta vita ecclesiale. Più si va a largo, più si deve andare in profondità per me. E poi, ecco, come ci ha ripetuto più volte, percivesco Matteo, tenere insieme l'umorismo di chi non si prende sul serio, ma prende sul serio Dio e il suo amore senza misura, senza le nostre misure. Ecco, mi sembra davvero uno stile paradossale inconfondibile, ma anche affascinante, disconvolgente attualità. Bene, grazie mille. Grazie a tutti. Penso che adesso, per rispettare un po' il termine, la durata dell'incontro che ci eravamo dati, potremmo pregare insieme il testo, il nuovo testo della preghiera, per chiedere grazie al Signore per l'intercessione di Madeleine, così approfittando anche di questa versione che è stata approvata dal Vescovo di Creteil e che, gentilmente, Don Luciano ha tradotto per noi in italiano. Vi inviterei alla preghiera di questo... Facciamo dire all'Arcivescovo? Cosa dici tu? Sì. Se vuole. Sì, Matteo. Riesci a leggerla? Sì, riesco a leggerla, come no? Grazie. Forse è meglio uno, perché sennò dopo mi sa che salta l'uso, forse per questo. Leggo. Signore Gesù Cristo, tu hai chiamato Madeleine Debrelle a darti la preferenza e l'hai portata nel tuo slancio di carità fino ai fratelli e sorelle più lontani da te. Tu le hai dato la viva consapevolezza che la vita eterna è il bisogno fondamentale dell'uomo. Ispiraci il desiderio di diventare santi, proprio nella strada in cui viviamo. Certi che la tua grazia non ci mancherà mai. Facci vivere più uniti a te e attraverso di te al mondo, come cerniera di carne, cerniera di grazia, che orienta il mondo verso di te. E affinché la Chiesa riconosca la tua santità in Madeleine Debrelle, per sua intercessione, concedi alla gente comune che siamo la guarigione del cuore, dell'anima e del corpo. e te lo chiediamo in particolare per, e io c'ho un lungo elenco, e dopo lo riprendo. Grazie di cuore. Amen. Amen. Bene. Il testo della liturgia dei Senza Breviario, che anche prima Don Matteo citava, è ripreso proprio nel testo della preghiera, in cui si parla di una cerniera di carne, una cerniera di grazia, e ci richiama questa duplice prospettiva, queste coordinate che sono quelle della croce, per hominem ad dev, così come Eddie ci ha presentato nel suo libro. Ringraziamo tutti quanti, voi soprattutto, che avete condiviso quello che è stato Madeleine per la vostra vita, nella sapienza della sua spiritualità e dei suoi scritti. Ringraziamo voi che vi siete collogati, in modo particolare la Facoltà Teologica dell'Emilia Romagna, che ci ha dato questa opportunità. Vi ricordo che sul sito martemaria.it, nella sezione dedicata a Madeleine, ci sono tutte le novità che riguardano la vita dell'Associazione in Francia, e anche quelle proposte, quegli itinerari, che stiamo promuovendo anche noi in Italia, uno tra i quali è questo percorso di discernimento per una vita consacrata, secondo lo stile di Madeleine Delbrel. È possibile anche contattando Don Luciano, alla sua mail personale, oppure scrivendo a MadeleineDelbrel.it, chiocciolagmail.com, avere maggiori informazioni anche rispetto alle iniziative che abbiamo in animo di proporre a tutti. Grazie ancora, buona serata e un saluto e una preghiera a tutti. Grazie Padre Gil, Eddie, Don Matteo, Don Luciano. Grazie, grazie a voi. Grazie. 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 Grazie a tutti. Sì. Ciao. Grazie.